Sassari. È stato individuato anche nel nord Sardegna il primo caso di variante Delta Plus. Il risultato è arrivato nella notte del 4 dicembre al laboratorio di microbiologia e viologia dell'Audi Sassari, diretto dal professor Salvatore Rubino. Il laboratorio ha sequenziato una settantina di tamponi provenienti dal nord-est dell'isola, tra questi quello di una paziente, attualmente in quarantena, che era rientrata in Sardegna dopo un viaggio all'estero e che è risultato positivo alla variante Delta Plus. Il laboratorio di Viale San Pietro infine sta completando il processo di sequenziamento del tampone effettuato nei giorni scorsi al passeggero atterrato all'aeroporto di Alghero dopo un viaggio in Sudafrica. Il risultato di queste analisi è atteso nei prossimi giorni.